Le magliette di Mattiz sono ora disponibili con un colore più bello dell'altro, passa nel link in descrizione. Benvenuti nella Deathrun di 2000 livelli su Fortnite. Sì, avete sentito bene, non ho detto 2, non ho detto 20, non ho detto neanche 200, ho detto 2000 livelli. Lollopollo, con quale voglia tu sei... Oh, che perfezione! Con quale voglia tu sei entrato in questa mappa insieme a me? Non lo so, speriamo che non è troll. Eh, infatti, la cosa divertente è che questa mappa è così grande che l'hanno dovuta dividere in tre codici, quindi per arrivare al livello 2000 noi dovremmo cambiare codice della mappa ben tre volte. Quindi magari potremmo sfruttarla per saltare qualche livello un po' brutto, che ne dici? Perché 2000 livelli sono eccessivi. Eh, direi proprio di sì. Comunque adesso partiamo, io la maglietta bianca di Mattiz ce l'ho, il supporta creator Mattiz ce l'ho, Lollo adesso non so se vuole vincere, perché se vuole perdere l'ha tolto. Eh, ma io... Io mi ero dimenticato fosse una death run, ok? Ora partiamo davvero con calma. Ora ci sono... Bello scherzetto, tutti molto contenti. Possiamo... Ah, che tra l'altro questo non era neanche livello 1, cioè io spero che siano livelli veloci. Grazie per averla attivata. Ma questo non è neanche livello 1? Eh, appunto, quello che dico io. Ma com'è possibile, oh? Se dobbiamo fare così tanto per partire, davvero, ciao ciao. Questa era la one level death run. Eh, scontato. Ormai... Eh, qui, vabbè, possiamo fare tipo così. Tipo così. Vai. Ma io dico, ma quando... Eh, sono morto? No, sono ancora vivo, ok. Non riesco a salire. Aspetta, è fatto. Eh, aspetta, eh. Attimo. Non si è mai... Lollo riesce a superarlo, sì. Ti ricordo ancora che non siamo a livello 1. Ma è una presa in giro? Oh. Eh, aspetta un secondo. Qui c'è qualcosa che non quadra. Aspetta, un attimo. Non ho capito. Trovata! Hai trovata? Sì, sono morto anche. Dove? Eh... Quella dosta al palo, tipo, c'è un lampione in mezzo. Ok, però non è possibile che non ci vogliono far incominciare neanche una death run di 2.000 livelli. Cioè, quello che dico io, già sarà lunghissima. Poi, vediamo. Sì, c'è... Eh, sono morto. Eh, lo so. C'è qualcosa che non va. Perché? Perché è così difficile l'inizio? Questo è davvero un problema, eh. Per entrare, in teoria, dobbiamo correre verso di là. Ok. Ho capito. Se provassimo a saltare, forse... Vabbè, Lollo, sacrificati tu, dai. Nessun problema, tranquillo. Vai. Così. Sì, ce l'ho fatta, hai ragione. Grande Lollo. Good job. Olli 1999. Oh, no, Lollo. Probabilmente skipperemo un po' di livelli e passeremo direttamente al terzo codice dopo, eh. Io ve lo dico già. Dai, dai. Ti posso dare una mano io questa volta perché l'attivo io. Se muoio mi arrabbio, però. Non c'è il checkpoint. Non c'è il checkpoint. Ah, hai ragione. Sì, c'è, c'è. Però devo superare un'altra trappola. Se muoio ora, impazzisco. Ok, ho preso il checkpoint. Quindi adesso io ti attivo le trappole. E muoio. Attento, ce n'è un'altra. Uuuuh. Mamma mia, mamma mia. Ok, io ci sono. Hola. Perfetto. Pensa se morire lì. Bene. Lollo, ti do il benvenuto al primo livello della death run. Come se noi non fossimo già impazziti. Perfetto. Ottimo. Ecco, è bello che sono morto anch'io. Questa è la cosa interessante. Allora, livello 1. Spero completato. Bene, grazie mille. Ma io non c'è il nome di me. Ce l'ho fatta. Prendo granata impulsi. Infinite. Ok, ne bastava una. Mamma mia, Lollo. Stavo per fare due livelli di fila. Non chiedermi come. Però sono morto. Ti consiglio di andare con calma e non andare troppo veloce come me. Passiamo subito, subito a livello 4. Ok. Io penso che il ghiaccio sia da evitare. No, non penso proprio. Vai. Ok. Ok. Non fermarti. Vabbè, vabbè, vabbè. Easy. Livello 4 per noi. Dai, ne mancano solo 1996. Perfetto, no? Ok, magari se si rompesse il ghiaccio ora sarebbe più bello. Vado con la rincorsa. Corsa. Siamo a livello 5. Non mi fermo, non mi fermo. Vado. E poi vado. E poi salto. Uh. Aspetta, perché mi son fermato? Livello 6 per noi. Ok. Scaramanzia. Trombone. E si può continuare. Provo anch'io. E, ovviamente, sbaglio. Ma era scontato, eh, raga. Tipo una cosa del genere. Ok. Ci sono, ci sono. Livello 7. Provo ad andare. Esatto. Ce l'ho fatta. Secondo me dobbiamo provare a saltare sui cosetti. Tipo, guarda. Una cosa del genere. Poi fai così. E fai così. Sì, però poi devi andare tutto a sinistra. Ok, ho capito. Beh. Provo a prendere la rincorsa. A fare così. Ok. Ci sono. Livello 8 per me. Siamo a livello 10. Vedo una trappola. Aspetta. Attenzione. Provo ad andare qui. E ora sta trappola? Vabbè, scendo direttamente giù. No! Dai, me l'hai attivata tu. Non ci posso credere. Ma che cattiveria. Vabbè, ma scusate. Ma non bastava saltare in questo modo? Eh, infatti. E non ci avevo pensato. Eh... Ah, ok. Non capivo. Prima i polli. Ok. Dovresti andare lì. Ok. Non so perché ci sono riuscito. Vado anch'io. Ah, era solo un livello. Ok, livello 12. Fantastico. Vabbè, questo dovrebbe essere abbastanza semplice. Vado io. No! Sono saltato sul muro rosso. Sono saltato sul muro rosso sbagliato. Questo perché io, quando faccio il parkour, guardo sempre i miei piedi. E quindi... Esagero un po' troppo a non guardare e sbatto sul muro. Dai. Oh, finalmente. Finalmente. Ciao, Lollo. Livello 13 per noi. Ok. Ah, vabbè. Basta passare qui. Sì. Easy. Livello 14. Cioè, mi metto nei livelli impossibili e poi... Ok. Vedo una trastro. Non l'ho capito. Cos'è? È un labirinto. Non capisco. No, aspetta. Secondo me bisogna passare qui dentro. Ok. Ci stiamo iniziando a perdere. Attento c'è la trappola qui. Forse l'ho trovata, eh. Sì, l'ho trovata. Livello 15. Cavolo. Questa era carina come cosa, però. Vabbè, senti. Dovremmo aver completato, però vedo troppi colori. Quindi facciamolo. Oh, è partito Lollo. È partito Lollo. È partito Lollo. Oh, oh, stai calmo Lollo. Stai calmo. Sono morti. Oh, insieme siamo morti. Ok, lo sapete cosa? A me sinceramente questo livello 16 non è che mi faccia impazzire tantissimo. Proviamo a modificarlo con... Schiocco le dita e... What? Cos'è successo? Livello 1505. Ma la vera domanda è perché... Lollo è già lì. Perché sei sponato lì? Va bene, a parte questo, da come vi avevo detto, siamo direttamente saltati a livello 1505 dalla mappa perché io sinceramente non ho voglia di passare 194 ore a fare questa mappa. Quindi vediamo come sono i livelli finali. Ora io salto qui. Ma scusate, ma questo non è nemmeno un livello, quindi... Boh. Livello 2000 è estremamente bello. Assicuratevi di arrivare fino alla fine. Sì, contaci che io farò 500 livelli per te. Allora, sarebbe figo provarci, eh. Devo dire la verità. Però adesso vediamo intanto quanto riusciamo ad arrivare perché questi mi sembrano abbastanza semplici. Ma se un livello dura così tanto... Ora vado qua. Poi vado lì. Perfetto. Sto prendendo il via anch'io. Wow. Ok. Ma sto livello 1505 quando finisce? Scusate. Io spero che tipo una volta finito questo percorso noi siamo a livello 1900, eh. Perché se no... E beh. Spero che tipo non abbiano avuto voglia di mettere i numeri di tutti i livelli perché non penso che un livello sia così lungo, dai. Perché questa trappola è così scura e bellissima? Vai. Io preferisco aspettare perché sono sicuro che la trappola mi becca se no. Ok, vado. Vado. Che tensione mi mette questa trappola? Ok. Perfetto. Io ci sono. E vado anche al prossimo. Ok. Ce ne sono alcuni semplicissimi. Tipo questi, sì. Qui. Ecco. Perché non sono riuscito a fermarmi? Mamma mia queste torce. Sembra lontanissima, ma è vicina. No, vabbè. Vicina, dai. E questi? Sono strani. Perché mettono tutte le cose messe a caso? Vabbè. Easy. Non mi fermo più. Non mi fermo più. Mi son fermato. Peccato. Vado. Ok. Penso di... Ok, vedo la fine. Vedo la fine. Non so se essere felice però perché manca molto alla fine. Vado. Va bene. Questi sono abbastanza semplici. Questo è aggherabile. Aspetta. Qui è un salto lungo. Provaci. Addirittura. Ecco, questo è brutto invece. No, ce l'ho fatta. Al primo colpo. Ok. Ok. Ti aspetto qui. Vieni, vieni, vieni che stiamo arrivando alla fine, dai. Attivo la trappola. Questa è scuola. Vado. Perché ho saltato? Oddio, perché ho saltato? Fai lo, lo ce la fai. Che fortuna. Subito, 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 senza paura. Che fatica sti cosi che tira... Eh, un'altra volta questo. Eh, lo sapevo io che stavolta sbagliavo. E stavolta l'hai fatto bene tu. Giusto, dai. Pari. Vado così? Esatto. Ok. Anche questo? Lollo. No, perché non andare troppo indietro perché team uccide, se no. Oh, finally. Che cosa? Ancora. Ma perché? Oh, vai. Ma non c'è nulla. Pronto? Non ci sono altri numeri. Lollo, no, io non la finirò mai questa cosa, mi dispiace. Mi dispiace. Non arriveremo mai a livello 2000. Vado. No, vabbè ragazzi. È illegale questa cosa. Tutta di fila. Tutta di fila. No, non è vero. Prendo anche questo, non mi fermo più. Non mi sto fermando più. Oh, oh, la trappola. Ecco, non lo sapevo. Vai, anche questo. Cioè, poi vedi, no? Dimmi questo. Qual è il suo senso? Dimmelo. Oh, siamo arrivando alla fine. Già? Sì. Siamo andati molto più veloci rispetto a prima. Guarda, per te lo dizio? Sì. Ci stanno altri cinque corridoi come quelli che stiamo facendo adesso. No, 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 no. No. Ah, è vero perché tu prima l'hai vista dall'alto quando sei spawnato in aria. Oh, no. Ma poi ci lasciassero un numero per capire in che livello siamo. Ma secondo me non lo sanno neanche loro quanti livelli c'è stato. Ma infatti, secondo me sono messi a caso. Sono entrato nel livello rosso comunque. Ed è infinito anche questo. No, no, basta. Io mi fermo al rosso. Secondo me stiamo al 1700 in questo momento. Abbiamo fatto 1500, 1600. Sì, 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 sì. Io direi che ci possiamo fermare qui. Lollopollo, mi dispiace per averti portato in questo posto. Non lo farò mai più, te lo prometto. La mia testa sta esplodendo. Provate ad arrivare al livello 2000, ragazzi. Io non lo farò perché praticamente i livelli sono tutti uguali. Solo che cambiano colore. E poi l'ultimo livello sicuramente sarà fighissimo. E lo scopriremo con molta calma. In questo momento non potete perdere tutti gli altri video che vedete in questo momento nella schermata finale. Mi raccomando, cliccate sul vostro preferito. E ci vediamo in quel video. Grazie a tutti per la visione. Supporta Creator Mattiz per completare anche i livelli 5792. Ciao ragazzi. Ciao.